Buongiorno, buongiorno a tutti, Cagliato Antoni di Viaggi in Giro è qui per fare un'altra passeggiata rimaniamo in Salento? Ok, beh sono un po' di volte, dunque la prima due settimane fa siamo andati a Punta Prosciutto la settimana scorsa siamo andati alla Salina dei Monaci, se sbaglio correggetemi perché comunque può succedere oggi invece dalla Salina dei Monaci, eccola lì Alice perché ho visto che voleva farsi vedere ma poi si è girata dalla Salina dei Monaci percorriamo altri 3 km circa anche in bicicletta perché c'è una pista ciclabile che ce lo permette e arriviamo al fiume Chidro, al fiume gelato, perché gelato? Perché è veramente gelato, la temperatura di quest'acqua non supera mai 10-12 gradi quindi soprattutto in estate farsi un bagno lì si sente una bella differenza, all'inizio è drastico, un po' fastidioso però poi si riesce piano piano, ci si immerge, io qualche volta sono riuscita anche a bagnarmi fino a tutta la testa lentamente questo fiume nasconde una bella leggenda e non ve la racconto perché mi fa piacere che l'andiate a leggere nel link che trovate qui sotto è una leggenda per chi crede, per chi non crede, comunque interessante questo fiume gelato permette ad alcune persone, infatti se ne vedono tante, di provare questo refrigerio proprio grazie alla temperatura, per chi ha problemi di circolazione, va lì e trova veramente piacevole immergersi lì fatevi una passeggiata, fatemi sapere se siete riusciti a, oggi balbetto un po', forse pioverà se siete riusciti a farvi il bagno nel fiume Chidro, io sono qua, scrivetemi, commentate, trovate il link qui sotto del fiume Chidro e poi ecco un'altra cosa, quando state lì sulle rive del fiume, sotto al ponte soprattutto potete vedere, ecco poso un attimo la penna che lì ci sono tutte le bollicine delle varie sorgenti dell'acqua e se mettete il piede lo sentite proprio che si sposta un po' più in là e l'acqua vuole uscire molto molto interessante aspetto dei commenti, un saluto da me e dalla penna rossa buona passeggiata, ciao alla prossima